Perché consiglierei la Scuola San Giuseppe a un genitore? Sicuramente perché noi non molliamo mai. Cerchiamo sempre di trovare il modo di portare il ragazzo a raggiungere i suoi obiettivi. Il ragazzo per noi è una persona, una persona da guidare, da condurre. Le persone che ho conosciuto sono state una seconda famiglia e mi sono sentita protetta. Guardare i ragazzi e cercare anche nei loro occhi, cercare di capire cosa vogliono. Infatti gli studenti possono dialogare molto facilmente con i professori e con tutto il personale scolastico. Davvero creare un ambiente sereno dove sia possibile proprio esprimersi e riuscire a raggiungere l'obiettivo. Per Don Luigi educare è una missione. Quindi le valori del fondatore sono di sapere essere a escluso dell'elevo e di sapere accogliere in maniera dura ma anche ferma. Mi ha arricchito molto da un punto di vista culturale ed emotivo perché qui ho trovato docenti molto calorosi e affettuosi e ho fatto amicizie che rimarranno per sempre nel mio cuore. Cerco di essere molto comprensiva verso i miei studenti, quindi avere la dolcezza ma anche la fermezza. La fermezza nell'educazione e la comprensione e l'amore a livello ovviamente umano. Queste caratteristiche mi stanno aiutando molto nel mio percorso di studi dell'università e credo sicuramente che nel futuro e nel mondo del lavoro queste caratteristiche siano fondamentali. Il maggior contributo che il San Giuseppe del Caburlotto ha avuto nei confronti della mia formazione è stata l'introduzione della lingua cinese mandarino al liceo. Il gruppo che si forma nelle classi dei ragazzi è un gruppo inclusivo dove le differenze vengono valorizzate. L'insegno cinese potrei anche dirla in cinese. La parola è hao ke. Quindi se io voglio scegliere una cosa che significa la nostra scuola, è hao ke. E questa parola indica proprio l'ospitalità, è la gioia nell'avere in realtà anche degli ospiti. Tutto il corpo docenti ma anche tutte le persone che lavorano qui dentro mi fa sempre piacere insomma ritornare e rivederli. Io mi relaziono con gli studenti attraverso il sorriso, credo che attraverso le emozioni le nozioni si fissano meglio. L'amore e l'affetto dei professori mi hanno aiutato ad essere la persona che sono. L'ho scelta come alunna, l'ho scelta come docente e poi l'ho scelta la terza volta come genitore per i miei figli. Io sono in questa scuola dall'asilo. Con i bambini della scuola dell'infanzia lo strumento che utilizziamo di più è il gioco. Un gioco che permette però al bambino anche di apprendere. Ci mettiamo passione e amore in quello che facciamo. Ci vuole però anche un po' di fermezza per dare un po' di autoregolazione ai loro comportamenti. Questa scuola inoltre offre anche la possibilità di fare diversi concorsi e viaggi studio che sono sicuramente delle occasioni molto importanti. È una scuola in cui i professori ti seguono, sanno vedere le tue potenzialità e sanno mettere in risalto le tue caratteristiche. È una struttura stupenda, c'è un livello di istruzione molto elevato e si viene eseguiti dall'inizio alla fine. Sono sicuro che mio figlio lo manderei certamente qui. Consiglierei questa scuola a chiunque voglia sentirsi amato, accettato e compreso. Il ricordo più bello in assoluto, quella sensazione di aver voglia dopo l'estate di ricominciare a venire a scuola per incontrare i professori, gli amici perché in realtà ci sentivamo come se fossimo effettivamente una vera famiglia.